ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in questo primo video a rock fishing in kayak questo video come ho detto poco fa come tecnica principale avrà il rock fishing però ci sono anche altre tecniche perché avevo delle clip vecchie da farvi vedere quindi ci sono un po di tutto mi raccomando lasciate like per questo video superiamo in 100 like condividete il video ovviamente iscrivetevi al canale per altri video del genere infatti se superiamo eccedendo like vedrò di portarvi altri video così o addirittura a rock fishing da terra che dovrebbe essere anche un po più semplice vedremo molte specie quindi anche per questo guardatevi questo video raccomando iscrivetevi attivate la campanella per ricevere le notifiche dei video e delle live non so non ho un minima idea di quando uscirà questo video lo sto registrando oggi siamo il 29 settembre e dai andiamo in pesca no? ciao 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 Questa acqua pulita Ho comprato il seggio nuovo come vedete tutta la roba settata e adesso bisogna solo salire Vediamo un attimo, oggi la acqua è bella fresca quindi mi sono messo gli stivali ma dopo tanto mi ricoglierò Ok sono ben piazzato e via partiamo per andare a fare una bella pescata a speedming Probabilmente rockfishing ma proverò anche un po' di spigole Ok Ce l'ho, ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho Ho preso una cheppia in acqua salata qua sono in una laguna guardate che cheppiola che è venuta fuori Quando cerchi di fare rockfishing Questa si merita una bella fotina Ho sentito un altro paio di attacchi però non immaginavo fosse stata una cheppia Liberiamola E via Ho lasciato un po' di squami su Ho visto un piccolo branco di pesci muoversi Spaventato da un predatore si puerava in una spigoletta ma invece è arrivata la cheppia Vabbè ci accontentiamo Comunque ero già venuto qua un po' di tempo fa Provando a fare lo stesso spigole e rockfishing e questo era stato il risultato Non ho fatto vedere l'attacco però ero riuscito a fare questo Comunque sempre per rimanere in onda del kayak Quest'estate non sono riuscito ad uscire Cioè inizio estate volevo uscire 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 Dopo per problemi che non mi andava più da coscandaglio Non sono potuto uscire perché senza coscandaglio è dura E questo è poco che sono riuscito a fare senza coscandaglio Non è chissà che però comunque qualcosa Quindi ve lo metto perché lasciare dare clip di una pescatina Non ho voglia quindi ve lo includo qua Non ho voglia quindi Non ho voglia quindi Non ho voglia quindi Oh oh c'è un pesce, c'è un pesce C'è un pesce, ce l'ho Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Piccolo, no, c'è l'inella, va bene Liberiamola Non so quando vedrete questo video So che probabilmente allora adesso è settembre Quindi prima di dicembre penso che non li vedete Quindi quando questo posto probabilmente sarà ghiacciato voi li starete vedendo Mi dispiace farmi vedere a distanza di così tanto tempo ma non posso far sì C'è l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Ecco c'è anche già sulla moto Noi 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 No Noi 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 Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti